Allora Draghi è Presidente del Consiglio da nove mesi. Lei se la sente di fare un bilancio di questo governo e sono giustificati tantissimi elogi, dobbiamo dirlo, al governo Draghi e alla persona di Draghi? Ma io non sono nella condizione di poter dare un giudizio di merito se non quello di un cittadino comune normale. Prima di tutto la cosa che ha portato Draghi è la competenza. Noi abbiamo seppellito quella cretineria che era l'uno uguale a uno e è arrivata una persona competente. E questa competenza ha spiazzato tutti, in quanto incompetenti, la gran parte. Quindi la grande novità è che noi abbiamo un uomo preparatissimo, non stiamo qui neanche a raccontarci cosa ha fatto Draghi nella sua vita, ma soprattutto un democratico competente e gentile. Perché Draghi non è mai... Io avrei perso la pazienza 20 volte se fossi stato per assoluto sbaglio al posto di Draghi e lui la trova una persona che è paziente. Ecco, ma? No, ma guardi, ma... Quindi il bilancio dopo nove mesi è positivo e andrà avanti... Ma guardi, la cosa più positiva secondo me sono stata la scelta delle persone. Le scelte della Belloni a capo dei servizi, una scelta ottima. La scelta del presidente e amministratore delegato della RAI. La scelta delle persone... La scelta di Figliolo, voglio dire, nessuno di noi sapeva che era... Il commissario straordinario. Figliolo, voglio dire, è stato una... Cioè, è un altro mondo rispetto al mondo di Alcuri. Ecco, quindi vede solo luci, niente ombre. No, le ombre sono che, secondo me, sul clima ci raccontiamo ancora delle storie. Ah, no. Questa è la cosa. Che vero non riguarda Draghi, riguarda la compagnia cantante. Cioè, tutti i capi di Stato riuniti sia al G20 di Roma che a Glasgow per il GP26 che ci raccontano delle cose che sono scarsamente credibili. Allora, su questo la fermo perché ci torniamo...